Sono soddisfatto, contento e poi mi affido alla vostra professionalità perché per me siete il numero uno e io non ho visto nulla cosa che stai. Ok, il nostro scopo è di fare tutti i pazienti contenti perché quando siete contenti noi siamo... I nostri denti sono così, questi di sopra e fuori. Quando lasciamo questo impianto posteriore, ok, lo lasciamo, lui è più palatinale. Il nostro impianto in suo caso viene così, qui. Questo è l'osso zigomatico. Quando questa distanza, dopo il libro si dice sono necessari 6 mm minimo. Questo significa fare il tag per vedere che le denti sono stabili perché si muove un'impianta e basta, si rompe tutto perché abbiamo una forza laterale. Come un po' così, guarda. Stai mai, era? Si, 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 ho capito. Ciao. 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 fa vedere i dentini? niente e come niente? è come quello di prima l'ha rimesso quello di prima per dispetto ecco è il karma questo sì perché sono stato cattivo no? Nicola sì no no Nicola no 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 come? Inga? come dice me? Inga no no Inga Inga come? Inga 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 Inga